3-2 finale tra Futsal Fiorentina e Petrarca Padova, si torna a vincere in campionato, che cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo soprattutto per la sofferenza finale? Non finiva mai visto tra l'altro un punteggio 3-0 che sembrava lasciar correre via il match senza grandi sofferenze? No, è successo che negli spogliatori ci siano presi le nostre responsabilità, insomma noi siamo una squadra che può dare veramente tanto, oggi non abbiamo disputato una buona partita, abbiamo giocato piuttosto male, eravamo a quella che era una prova di carattere anche per vedere che dopo aver fatto 4 partite in cui ci imponevano il gioco e ripartivamo in contropiede dovevamo noi imporre il gioco, i ragazzi l'hanno sentita un po' troppo questa partita, sentita dal punto di vista della responsabilità, cioè del doverla vincere per forza, è scaturita questa partita che secondo me dal punto di vista forza del gioco il Padova ha giocato anche meglio, però insomma abbiamo poi quelle qualità che ci permettano di realizzare, io non sono assolutamente soddisfatto della partita disputata. Sul discorso tattico continua l'efficienza importante in fase di ripartenza, qualcosa forse in fase difensiva rispetto alla solidità consueta da rivedere, e soprattutto nel finale qualche amnesia che ha rischiato di regalare un po' troppo agli avversari? L'amnesia allora, devo dire che quando vinci 3 a 0 e non hai il polso del tempo che scorre, il tempo che scorre è una certezza, non sai se puoi spendere il fallo, non lo puoi spendere, non sai quanto manca, io sinceramente il secondo tempo è durato 35 minuti, è una follia secondo me. Niente, che dire, sul 3 a 0 è palese la paura di vincere, l'abitudine, quella cattiveria che noi ancora non abbiamo perché ancora non siamo una squadra capace di ammazzare la partita, probabilmente tra qualche mese quando saremo ancora maggiormente cresciuti sul 3 a 0 saremo in grado di farne altri 2 o 3, insomma. Noi dobbiamo imparare da squadre come il Verona che con il minimo sforzo ottengono al massimo risultato. Sabato scorso, nell'ultima giornata, quando noi siamo calati un po', loro hanno chiuso la partita, hanno chiuso definitivamente il conto e noi dobbiamo fare altrettanto. Ci siamo presi paura, abbiamo arretrato e ci hanno fatto buio. In quell'occasione, per concludere, ci dicesti comincia il nuovo campionato per la Fuzza Fiorentina, comincia bene che comincia con 3 punti, però si vede che anche con le squadre che saranno le principali rivali tra centro classifica e lotta salvezza ci sarà da soffrire? Beh sì, ci sarà da soffrire perché comunque sia tutti si allenano e si allenano bene, il Padova oggi ha fatto vedere che comunque è in possesso di buoni movimenti, si attaccare anche con il portiere, l'abbiamo visto gli ultimi 4 minuti, ipotetici 4 minuti perché poi in realtà sono diventati 15 sedi. E quindi è una buona squadra, il Padova è una buona squadra ma lo sapevo, nel senso che comunque aveva fatto, vinceva 2-0 a Verona, poi ha perso 3-2, ha fatto dei risultati importanti anche se la classifica non gli sta pagando. E quindi niente, è sicuramente difficile che noi dobbiamo fare quella crescita, quella determinazione ed essere forti in tutte le fasi, non solo quella difensiva. Io l'ultima parte della fase difensiva mi ha fatto molto errore perché c'era anche tanta paura, tanta paura sul 3-0 di dire oddio ora forse vinco. Questo ci lo dobbiamo un po' togliere, va via giocando perché non c'è problema. Grazie Iuri Campofiloni